Buongiorno Davido, allora la news che mi ha intrippato di più in questi giorni è quella della creazione, della nascita di un nuovo linguaggio di programmazione che si chiama Mojo e che è un superset di Python così come TypeScript per esempio è un superset di JavaScript, quindi tutto quello che è scritto in Python può essere tranquillamente importato e compilato in Mojo. E Mojo è stato creato da Modular che è una startup che si occupa di offre servizi di infrastrutture in AI e in particolare da uno dei fondatori di Modular che è Chris Lettner, Chris Lettner è una specie di genio dell'epoca moderna dell'informatica che ha creato LLVM che è un toolkit per creare e ottimizzare compilatori che oggi è super popolare alla base di compilatori per C++, alla base di Rust ed è anche alla base di Clang e Swift che sono due linguaggi creati dallo stesso Chris Lettner. Beh insomma è anche uno dei motivi per cui nascono nuovi linguaggi di programmazione oggi e per cui nascono programmi software compilati per architetture diverse come per esempio ARM e non contento Lettner ha poi creato MLIR che è un infrastrutture, un framework per avere infrastrutture di compilatori che poi servono per avere diversi livelli di astrazione, per targettizzare hardware diversi come CPU, GPU, per esempio questa roba è fondamentale per le IA, per andare a targettizzare le GPU, i Tensor Core. Insomma questo per dire che Lettner oggi, in realtà qualche giorno fa ha rivelato al mondo la sua ultima creazione che è appunto Mojo, quindi dicevamo superset di Python va a indirizzare uno dei principali problemi di Python che è la velocità, le performance. Perché oggi sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, le parti di Python che vanno superveloci, che hanno bisogno di velocità come per esempio appunto l'IA, sono in realtà in librerie scritte in linguaggi performanti come C, C++ e Rust. Per esempio una delle più popolari che è TensorFlow, in realtà è praticamente scritta in C++, quindi questo significa che un programmatore Python che vuole scrivere roba performante deve andare a importare o deve scriversi delle librerie in linguaggi diversi performanti. Questo vuol dire che deve conoscere due linguaggi e poi anche perché quando ci sono dei problemi bisogna andare a debaggare linguaggi diversi, la parte Python e la parte in C++ per esempio. E quindi arriva Mojo che cerca di risolvere tutto questo e cosa fa? Aggiunge nuove cose, praticamente è Python++, ci aggiunge i types per esempio, gli static types, ci aggiunge nuove primitive come var, let, fn o struct e poi operazioni memory safe come in Rust e accesso ai puntatori come in C. E tutto questo lo rende capace di fare quello che gli autori definiscono autotune, cioè una serie di ottimizzazioni a compile time che poi lo rendono molto 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 più veloce di Python. E un altro beneficio è che da Mojo si ottiene un binario che è quindi facilmente deployabile, spostabile da una macchina all'altra. E tutto questo appoggiandosi a MLIR, quindi all'infrastruttura di compilatori che già gli permette di sfruttare le capacità avanzate di hardware con IA, come per esempio i Tensor Core o le estensioni AMX. Quindi praticamente già di base importando uno script Python in Mojo si ottiene una velocità molto superiore. Poi se si va a rifattorizzare usando le strutture nuove, gli static types, fn, struct eccetera, aumenta ancora ulteriormente la velocità dello script, la velocità dell'esecuzione del compilato. Se poi si attiva l'ottimizzazione automatica, l'autotune cosiddetto, si va proprio a livelli spaziali. Quindi lo potete provare? No, o meglio sì, ma dovete iscrivervi per andare a provare un playground che è praticamente uno Jupyter Notebook per provare il linguaggio. Però non è ancora ufficialmente rilasciato, non è completo, non è neanche open source, nel senso che non ha una licenza, non c'è il suo codice, non è liberamente disponibile, non c'è nemmeno un package system al momento. Però tutte queste cose arriveranno, dovrebbero arrivare. Peraltro si possono creare i file Mojo con estensione .emoji del fuoco della fiamma, non lo so. Comunque l'annuncio ha portato un certo fermento nella comunità. Jeremy Howard, che è il co-creatore di FastAI, il co-founder di FastAI, ha commentato testualmente che questo è forse il più grande avanzamento nei linguaggi di programmazione da decenni. E quindi c'è da tenerlo d'occhio. Io so che la comunità dei programmatori Python, soprattutto quelli degli sviluppatori in ambito IA, ha già gli occhi sopra, è già molto interessato. Però anche la comunità scientifica, dove Python è molto usato per processare grosse quantità di dati. Quindi questo era quello che mi interessava approfondire oggi, grazie dell'attenzione e appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao!